Gentili telespettatori, buona giornata. Renzi attacca Letta, è un agente infiltrato di Meloni. Insomma, è una frase altisonante, la frase realmente non è attinente alla realtà, è un modo di dire chiaramente. Letta dice ha sbagliato tutto, dice Renzi, ha sbagliato alleanze, ha sbagliato coalizioni, ha sbagliato su Job Act, si è preso in carico di Maio e Fratoianni e ha lasciato fuori noi. La certezza matematica di perdere collegi, ormai l'unica spiegazione possibile è che Letta sia un agente infiltrato della Meloni, altrimenti non si spiega, dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un'intervista al giornale. Mentre Letta invece dice che il reddito di cittadinanza è da correggere, ma per le destre e per Renzi la povertà è una colpa. Anche questa invece è una frase sciocca, che non è vera, è una frase che vuol far intendere un qualcosa che è falso. Infatti, se voi avete visto e seguito politica negli ultimi mesi, viene evidenziato che il PD e il partito dei ricchi viene votato da chi ha un reddito da 5.000 euro in su, o almeno chi ha un reddito da 5.000 euro in su, con una grandissima probabilità, vota PD. Diciamo, i ricconi o i benestanti votano PD. I poveri, la sinistra li ha abbandonati da tempo, non gli interessano più. Però, secondo Letta, è la destra che pensa che la povertà è una colpa. Dice Letta che correggere, modificare e potenziare dove è necessario il reddito. Negli ultimi anni ha evitato che circa un milione di cittadini scivolasse sotto la soglia di povertà assoluta. E' fornito sostegno a 76.000 persone con disabilità che vivono da sole. Ma è innegabile che alcuni aspetti del reddito vadano rivisti. Dice il segretario del PD rispondendo a una delle 12 domande formulate da Nazione, Carlino e Giorno. Penso ad esempio alle distorsioni che penalizzano le famiglie più numerose, ma penso anche al collegamento con il mercato del lavoro. Questo è un altro dei punti su cui emerge tutta la distanza tra le posizioni in campo in queste elezioni. Per noi la povertà è un dramma e una sconfitta per la società a cui rimediare. Per le destre è con loro un Renzi particolarmente accanito nella sua caccia al povero. E' una colpa. Anche questa è una stupidaggine. Allora, voi sapete che la campagna elettorale fatta da Letta è di denigrare tutto quello che dice la destra. E se la destra sta dicendo delle cose intelligenti, allora bisogna raccontare delle frottole. Perché se no come fai a dire al tuo elettorato che quello che dice la destra sono mostruosità? Devi condire o addirittura falsificare la realtà. E questa è una falsificazione bella e buona della realtà. Dire che il centro-destra fa la caccia al povero, che essere povero è una colpa, è una stupidaggine. Bella e buona. Bella e buona. Possiamo dire che abbiamo visto poi proprio una sorta di cambio. Nel centro-destra non c'è nessuno che vuole cancellare il reddito. Anche perché si sono accorti che porta un bel po' di voti, parliamoci chiaro. Allora, da cancellare siamo a modificare e siamo arrivati al nessuno sarà lasciato indietro. Quelli con oltre 60 anni avranno reddito, che si chiamerà in un altro modo. Quelli che non possono lavorare avranno il reddito, che si chiamerà in un altro modo. E tutti gli altri? Quelle 700.000 persone che possono lavorare ma erano sul divano prendendo il reddito? Quelle le aiutiamo dandogli un rimborso spese finché non trovano lavoro. Significa? Nessuno sarà lasciato indietro. Che significa? Tutti continueranno più o meno a prendere quello che prendevano prima con il reddito. Quindi, caroletta, non so se hai notato che il centrodestra ha cambiato postura sul reddito. Da abolire, prendiamo quei soldi e li utilizziamo per le pensioni. E al... No, non è da abolire, da cambiare, ma nessuno sarà lasciato indietro. Quindi, caroletta, stai dicendo un'altra bugia per fini elettorali. Salvini dice che tutti hanno cambiato idea su Putin dopo la crisi internazionale. E anche lui ha cambiato idea. Dice, prima tutti facevano accordi commerciali, da Letta, Renzi, Prodi, Berlusconi. È chiaro che con quello che è cambiato si cambia anche idea. Lui lo dice a stamane, lo dice oggi a Radio Anch'io. E aggiunge, le sanzioni le abbiamo sempre votate. Siamo al settimo mese, io ho solo fatto la domanda, le sanzioni stanno mettendo in ginocchio la Russia? Vedete le bollette? Non vorrei che a pagare le sanzioni fossero i lavoratori italiani. Le sanzioni hanno messo in ginocchio la Russia, caro Salvini? Ti rispondo io, sì. Sì. La risposta è sì. Hanno messo anche in un serio problema l'Italia e l'Europa? Sì. Perché quando fai le sanzioni, le sanzioni non sono a senso unico. Le sanzioni colpiscono chi le riceve e colpiscono chi le rifà. Chi le fa. Su questo non c'è dubbio e si sapeva anche prima. Però sette mesi dopo venire a dire le sanzioni colpiscono anche noi, lo si sapeva anche prima. Non è che è una novità. Qui bisogna vedere... Vabbè, è un discorso più ampio che non stiamo a fare in questo video. Se andrà al governo Salvini sulle sanzioni dice continueremo a fare ciò che abbiamo già fatto, ma proteggeremo i lavoratori italiani, i lavoratori italiani, come durante il Covid. È un secondo Covid, non in ospedale ma in fabbrica, e bisogna proteggere gli italiani. Intanto Draghi va a New York, dove viene premiato come statista dell'anno. Draghi rinsalda un'amicizia con gli Stati Uniti e fa presente là che il governo che verrà sarà esattamente uguale per quanto riguarda le politiche internazionali. Praticamente Draghi è andato a tranquillizzare dicendo state tranquilli che chi verrà sarà per la Nato, per l'Europa, per l'Euro, per le sanzioni, non ci sarà nessun cambio in politica estera. Questo è il senso del viaggio di Draghi negli Stati Uniti. È voluto andare a dire guardate che chi verrà dopo continuerà a fare le stesse cose che facevo io in politica estera. Quindi state tranquilli che non cambia niente. Probabilmente Draghi ha avuto l'assicurazione da parte di Meloni, come è anche scritto nel programma di Giorgia Meloni, che la politica estera sarà esattamente la stessa. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti.